Ciao, vi porto con me in giro per la Corea Oggi andiamo di nuovo a cambiare i capelli Siamo a Cheongdam, nella frazione di Gangnam E il salone nel quale andremo oggi si chiama Pretty Salon Wow! Questo salone ha fatto i capelli alle Blackpink E la scelta di X-Tations era davvero, davvero, davvero basta Non sapevo cosa fare Qui ancora non sapevo cosa fare Ma mi stavano schiarendo un po' i capelli Mi hanno dato uno snackino e un caffè E io ero ancora molto confusa E qui mi hanno rischiadito i capelli E alla fine ho scelto di fare questo B-Color con Lime Cat E nulla, ero molto molto felice Mi hanno anche regalato due spazzole Ovviamente eravamo a Cheongdam, quindi ho pagato un sacco Però risultato molto bello A voi piace?